Era un uomo senza scrupoli, ha ucciso senza pietà uomini, donne e bambini. Il suo nome era Salvatore Rina, il famoso capo dei capi, ricordato come il boss più sanguinario d'Italia. 15 gennaio 1993, via Bernini 54, Palermo. L'autista Salvatore Biondino sta uscendo dal cancello di una villa con una Citroën ZX. Insieme a lui c'è l'uomo più ricercato del momento, Totò Rina. I due però non sanno che il capitano DiCaprio, insieme ad alcuni carabinieri, li stanno aspettando fuori dall'abitazione. Dopo ben 24 anni di latitanza, il capo assoluto di Cosa Nostra era in trappola. Finalmente è stato trovato il boss Salvatore Rina. Salvatore Rina, detto Totò Ucurtu, nacque il 16 novembre 1930 a Corleone, in Sicilia, da una famiglia poverissima. All'età di 13 anni, Salvatore subì due gravi lutti. Il padre Giovanni, insieme al fratellino Francesco di 7 anni, morirono a causa dell'esplosione di una vecchia bomba americana, che avevano trovato in un campo e che volevano aprire per rivendere in metallo e la polvere da sparo. Questo episodio portò Totò a crescere ancora di più nella miseria e alimentò la sua indole violenta. Negli anni della gioventù, insieme agli amici Bernardo Provenzano e Calogero Bagarella, si avvicinò alla figura di Luciano Liggio, uno dei malabitosi locali affiliati a Don Michele Navarra, il boss della zona. A soli 19 anni, Totò venne condannato a 12 anni di reclusione per l'omicidio di un suo coetaneo, Domenico Di Matteo. Venne scarcerato nel 1956 e da quel momento intrapresi, insieme a Liggio, una sanguinosa lotta per impadronirsi del potere criminale corleonese. Fino al 1963, la città di Corleone divenne teatro di violenze e omicidi che vedono Don Navarra e i suoi uomini eliminati uno a uno. Nello stesso anno, però, Riina finì di nuovo dietro le sbarre. Durante un banale controllo stradale, la polizia gli trovò addosso un'arma non dichiarata e dei documenti d'identità falsi. Tornato libero nel 1969 per assenza di prove, Riina proseguì i suoi sporchi affari con le grandi famiglie palermitane di Cosa Nostra. Inoltre, il 10 dicembre 1969, insieme a Liggio e Provenzano, fu responsabile della strage di Viale Lazio, che portò alla morte di numerosi uomini, tra cui il boss Michele Cavataio. Riina iniziò la sua scalata al potere nel 1971. Aveva il pieno controllo sul contrabbando, traffici di droga e appalti edili. Farà uccidere il magistrato Pietro Scaglione, diventato, secondo lui, troppo invadente, e partecipò a diversi sequestri di persone, mirati non solo a estorcere denaro, ma anche ad indebolire le famiglie mafiose rivali. Nel 1974, quando Luciano Liggio venne arrestato a Milano, Totò Riina prese il suo posto all'interno della Commissione, l'organo decisionale composto dalle più importanti famiglie mafiose. Da quel momento, il potere era nelle sue mani. Negli anni successivi a Palermo si scatenò una vera guerra di mafia, in cui il capo dei capi e i suoi scagnozzi riuscirono a fare piazza pulita dei vecchi boss. Il suo alleato più fidato era Bernardo Provenzano, con cui attuerà la maggior parte dei suoi piani. Chiunque osasse intralciare il suo cammino era destinato a morire. Questo destino non sarà riservato solo ai capi delle cosche o ai malavitosi, ma anche a giudici, politici e forze armate. Il 6 gennaio 1980 venne ucciso il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il 30 aprile 1982 venne trucidato Pio Latorre, un segretario regionale che si era fortemente battuto contro Cosa Nostra. L'uomo presentò una legge che prevedeva, per la prima volta nell'ordinamento italiano, il reato di associazione di tipo mafioso. Era un affronto troppo grande per Rina, che lo ripagò con la morte. Cinque mesi dopo, il 3 settembre, fu la volta del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. inviato in Sicilia proprio per contrastare l'avanzata dei poteri mafiosi. La guerra di Rina, però, non veniva combattuta solo con le armi. I corleonesi riuscirono a farsi amici influenti all'interno dello stesso Stato italiano, con cui la mafia stringeva patti elettorali e post-elettorali. Appalti, nomine, consulenze e molto altri. Oltre agli amici, però, Rina aveva anche molti nemici. Tra questi c'era Tommaso Buscetta, ex boss mafioso. Dopo essere stato catturato in Brasile, dove scappò per fuggire alla ferocia di Rina, Buscetta, in una serie di interrogatori, spiegò organigrammi, regolamenti, nomi, collocazioni geografiche, moventi di omicidi, alleanze e progetti della mafia. Le sue dichiarazioni si dimostrarono fondamentali per la condanna a numerosi ergastoli di Rina, Messina Denaro e di altri mafiosi durante il maxiprocesso del 1992. A portare avanti le inchieste per le condanne erano i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Mai la mafia era stata colpita così duramente dalla legge italiana. E infatti le ritorsioni non tardarono ad arrivare. Totò Rina, insieme ai suoi uomini, ci impiegarono quasi un mese a preparare l'attentato al loro nemico numero uno, Giovanni Falcone. Potevano facilmente ucciderlo a Roma, ma Rina decise che il magistrato doveva morire in un'azione militare plateale in Sicilia. Era il 23 maggio 1992 quando Giovanni Falcone atterrò insieme alla moglie dall'aeroporto di Ciampino a quello di Punta Raisi. Insieme a sette agenti di scorta e tre macchine imboccarono l'autostrada in direzione Palermo. Tutti i loro spostamenti però erano osservati e comunicati ai sicari che li stavano aspettando all'altezza dello svincolo per l'uscita di Capaci dove avevano riempito una conduttura con 500 kg di tritolo stivati in 13 bidoncini. E fu proprio lì che quando arrivarono tre autovetture i sicari azionarono la bomba che distrusse totalmente le corsie autostradali e che uccisero sul colpo di agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Ricillo e Vito Schifani. Successivamente, in ospedale, versero la vita anche Francesca Morvillo e il marito Giovanni Falcone che morì tra le braccia del suo collega e amico Paolo Borsellino. Consapevole del fatto che, probabilmente, la stessa sorte sarebbe toccata anche a lui. E così avvenne a soli 57 giorni di distanza. Era il 19 luglio 1992 quando Borsellino arrivò a Palermo in via D'Amelio per far visita alla madre. Davanti all'abitazione era parcheggiata una Fiat 126 con all'interno 90 candelotti di tritolo. Nel momento in cui il magistrato schiacciò il citofono per chiamare la madre l'autobomba esplose distruggendo tutto ciò che trovò nel raggio di 150 metri. I corpi di Paolo Borsellino e dei suoi cinque agenti della scorta Walter Edvi Cosina Emanuele Aloi Agostino Catalano Vincenzo Limuri e Claudio Traina vennero fatti a pezzi. La morte dei due giudici fu una ferita insanabile per tutta l'Italia e l'opinione pubblica. Bisognava fermare Cosa Nostra. Gli sforzi si quadruplicarono e una caccia all'uomo serrata strinse il cerchio attorno a Totorina che il 15 gennaio 1993 dopo 24 anni di latitanza venne arrestato dai Rossi dei Carabinieri davanti alla sua villa a Palermo. Il boss affermò sin da subito di essere stato vittima di un complotto e negò addirittura di far parte di Cosa Nostra. Dal giorno della sua cattura si susseguirono indagini inchieste e interrogatori che portarono Totorina ad essere condannato a ben 26 ergastoli. Per anni è stato rinchiuso e poi trasferito molte volte da un carcere all'altro venendo sottoposto al regime 41 bis. A metà marzo del 2003 Totorina subì un intervento chirurgico per problemi cardiaci e nel maggio dello stesso anno mentre si trovava nel carcere di Ascoli Piceno venne colpito da un infarto. Fu sottoposto ad un intervento di angioplastica coronarica all'ospedale Mazzini di Teramo ma qualche mese dopo venne nuovamente ricoverato per problemi cardiaci. Questo fu solo uno dei molti ricoveri in ospedale di Rina. I suoi avvocati chiesero innumerevoli volte gli arresti domiciliari per il loro assistito ma per i giudici le sue condizioni di salute erano compatibili con il regime carcerario. Fino a quando nel 2017 le sue condizioni di salute peggiorarono rapidamente e venne trasferito all'ospedale maggiore di Parma dove fu sottoposto a due interventi chirurgici. Dopo essere entrato in coma l'11 novembre in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute Rina morì la notte del 17 novembre 2017 il giorno dopo il suo 86esimo compleanno dopo aver trascorso 24 anni in carcere. Con la morte del boss si concluse definitivamente il capitolo di una delle storie più sanguinose e cruenti della storia italiana. Rina si è portato nella tomba molti segreti che purtroppo non verranno mai svelati. Adesso il suo corpo è sepolto nel cimitero di Corleone vicino al suo collega e amico Bernardo Provenzano. Metti like iscriviti e attiva la campanellina per non perdere i prossimi video.